Anche se le vacanze sono appena iniziate, noi pensiamo subito a settembre. Ci ritroveremo al Cine Lab di Simone Terranova, a Piombino, Accademia delle Muse. Con me ci saranno tre grandi novità. Una la conoscete già, ma è un pezzo da 90. Lui. Ciao giovani allievi, futuri allievi, miei colleghi in un certo senso. A Piombino ci incontriamo a settembre, alle Muse, e faremo questo percorso di questo master intensivo sul mestiere dell'attore nell'ambito del cinema. Genio. L'altro è lui. Salve, sono Simone Pedralia, regista e sceneggiatore. Quest'anno farò parte del corpo docente dell'Accademia di Recitazione di Piombino. Ci vediamo a settembre, alle Muse. A presto ragazzi. E poi c'è lui. Ciao a tutti, sono Massimo Cercovecchi e sono un docente di improvvisazione teatrale. Vi aspetto da settembre all'Accademia Le Muse, a Piombino. Per cominciare queste sono già grandi novità. Ci vediamo a settembre, saluto la grandissima Gianna Martorella. Ragazzi vi aspetto come ogni anno. Spacchiamo. 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 Grazie.